Grazie di essere intervenuti, noi ci proveremo, vediamo se non c'è troppo rumore di fondo, faremo qualche brano qua, poi vi inviteremo a salire e canteremo subito qua dietro per avere un po' più di acustica e per darvi modo anche di vedere un po' meglio la doccia. Il nostro ruolo valoriale di Tirano e il nostro repertorio di gospel e spirito al semplice romantica. Stasera ascolterete una carrellata di spirito alle gospel. Buon ascolto! Il primo pezzo si chiama Siso Abba, è un canto tradizionale dello Swaziland. Siso Anbonapace Siso Anbonapace Sì, 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 S Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.